Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Incendio nel primo pomeriggio nell'area circostante in un grande negozio di florovivaismo a Ceciliano. Alle porte della città di Arezzo un mezzo pare adibito alle consegne ha preso fuoco. Un'alta colonna di fumo scuro si è elevata in alto e l'odore acre ha invaso le zone circostanti. L'intervento dei vigili del fuoco subito a corsi sul posto ha evitato il peggio soprattutto che le fiamme potessero appunto raggiungere le strutture del negozio. E allora si può andare avanti con il risarcimento milionario chiesto dalla famiglia di Guerrina Piscaglia. Quasi un milione di euro è la cifra che Mirko e Lorenzo Alessandrini, marito e figlio di Guerrina Piscaglia hanno chiesto alla diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro e all'ordine dei premostratensi al quale apparteneva Gretiana Labi come risarcimento. La causa civile prosegue così a quasi dieci anni di distanza dalla scomparsa della mamma di Caraffello. Il giudice Fabrizio Pieschi ha infatti rigettato tutte le eccezioni delegali della chiesa e dell'ordine religioso contro l'azione promossa dalla famiglia Alessandrini. Secondo il giudice ci sono dunque presupposti per tenere viva la causa senza precedenti al mondo. In sede penale i giudici avevano già disposto per l'ex sacerdote una provvisionale di 100.000 euro ma Alabi non ha nulla e quindi non ha versato e molto probabilmente non verserà nemmeno un euro. Il peso però adesso in caso di condanna potrebbe ricadere su diocesi e ordine religioso che dal canto loro sostengono tramite i propri legali che Gretiana Labi abbia agito da privato cittadino e non nella funzione di sacerdote loro dunque con risarcimento non c'entrano nulla. La prossima udienza è stata fissata per l'inizio del 2024 quando gli avvocati della famiglia Alessandrini presenteranno le proprie memorie. In questo procedimento Alabi che si trova in carcere a scontare 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della donna mai ritrovato sarà giudicato in contumacia, non sarà presente e non ha nominato nessun legale che lo rappresenti. Anche le sorelle di Guarina Piscai infine hanno tentato una causa civile. Anche loro chiedono a diocesi e ordine religioso un risarcimento da un milione di euro. Schede telefoniche irregolari utilizzate da truffatori denunciate due persone. L'operazione è stata portata avanti dai carabinieri di Badia Prataglia e di Poppi che sono partiti dalle truffe commesse ai danni di un anziano e di un uomo più giovane da un falso assicuratore e da un sedicente bancario che avevano chiesto i dati al telefono rispettivamente per la stipula di una polizza e per l'accesso al conto. I carabinieri hanno accertato che i truffatori avevano acquistato le sim presso due impori nel centro di Napoli e presso un negozio di telefonia nella provincia di Caserta. Tra l'altro una donna intestataria del contratto in quest'ultimo caso, rintracciata a differenza degli altri intestatari delle sim acquistate a Napoli, non ha riconosciuto come propria la firma per l'attivazione della portabilità del numero. Teatro di tante tragedie della strada, oggi una manifestazione lungo la regionale 71. Un intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari dell'emergenza urgenza per uno schianto frontale tra due auto con a bordo anche due bambini. Fortunatamente è solo una simulazione per parlare di sicurezza stradale. Usa la testa per non perdere la vita è lo slogan dell'iniziativa organizzata non a caso in uno dei tratti della regionale 71 che negli ultimi tempi è stato teatro di gravi incidenti anche mortali. Da qui da Marina per arrivare a Ponte della Chiazza ci sono stati dieci morti in poco tempo, poco più di un chilometro, sicché sono quasi uno di 100 metri. Abbiamo deciso di capire il perché ci si può essere questa situazione in questa maniera qua. L'iniziativa organizzata da Rezzo Motori e dalla Federazione Motociclistica Italiana si è svolta a Castelnuovo nell'ex campo sportivo e nel piazzale di Marino. La 71 è una di quelle strade che purtroppo per caratteristiche che ha sia di traffico che strutturali sono soggette a un gran numero di incidenti. Noi abbiamo rilevato vari incidenti mortali. La strada necessiterebbe effettivamente di un adeguamento anche strutturale. Va sempre comunque detto che alla base degli incidenti c'è il fattore umano. Il 99% degli incidenti avvengono perché chi si pone alla guida di un veicolo non è concentrato, quindi è distratto. Si distrae per vari motivi e la distrazione porta a non avere più quell'attenzione che la guida di un veicolo oggi richiede. Oltre alla simulazione di incidenti anche momenti dedicati ai più piccoli come un circuito di educazione stradale. Perché dai giovani sono quelli che bisogna fargli capire come funziona. Che poi il giovane è il ragazzo che monta in macchina con altre persone, con il babbo, con la mamma, con la zia, con chi ti pare, è attento, vede il semaforo e dice oh babbo ma che fai? Guarda che è arrivato il giallo e poi aveva il rosso. Oppure guarda che c'erano stoppe lì, è andata bene. Servono anche per questi ragazzi, non le prendiamo proprio diciamo sprovvistiche, sono più avanti di noi se non voglio. Il cappellano della Polizia di Stato infine ha benedetto la strada regionale 71. È iniziato da appena due settimane l'anno scolastico ma ci sono già importanti disagi. Partiamo dalla scuola Cesalpino in piazzamento Refanfani ad Arezzo dove il cantiere ancora aperto ha provocato qualche reazione appunto da parte delle famiglie. Nei giorni scorsi si è quindi tenuta una riunione con il comune di Arezzo per cercare appunto di mitigare queste problematiche. L'amministrazione ha accordato e messo un'ordinanza per una delle richieste arrivate proprio dalle famiglie, cioè quella di ampliare lo spazio esterno dedicato all'attesa dell'ingresso a scuola vista proprio l'impraticabilità del porticato per via del cantiere. È stato anche richiesto di organizzare la sorveglianza anche tramite volontari durante l'ingresso della mattina. Per quello che riguarda invece le polveri diffuse ovviamente per via del cantiere nell'aria è stata accordata la verifica della qualità dell'aria nelle aule e per questo sarà coinvolta l'ARPAT. Parliamo ancora di scuole e di disagi perché come sappiamo invece l'anno scolastico all'istituto professionale Marconi di San Giovanni Valdarno praticamente non è mai iniziato o meglio gli studenti sono stati trasferiti in un altro istituto per via del crollo del controsoffitto in una aula appunto poi l'edificio è stato dichiarato inagibile. Dopo due settimane di orario ridotto i ragazzi fino ad oggi hanno effettuato tre ore di lezione anziché cinque intanto per l'indirizzo moda si profila una soluzione ma sul caso intervengono anche i Cobas Scuola. Mentre si procede ad una digitalizzazione forzata delle scuole e aumentano gli investimenti in una tecnologia che a breve sarà obsoleta intanto si trascurano le strutture che sono già obsoleti da tempo e presentano il conto. Ad intervenire sul caso del professionale Marconi di San Giovanni Valdarno dichiarato inagibile dall'inizio dell'anno scolastico per il crollo di un controsoffitto è il sindacato Cobas Scuola. Nei giorni scorsi prosegue Cittadinanza Attiva ha presentato il ventunesimo rapporto sulla sicurezza nelle scuole. Sulle certificazioni nessun passo in avanti ne resta priva circa la metà delle scuole. Nell'ultimo anno scolastico ci sono stati ben 61 episodi di crolli. Per il professionale Valdarnese il prossimo lunedì ci sarà la prima buona notizia. Tutto l'indirizzo moda sarà trasferito nei locali della parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi e torneranno a fare dunque lezioni regolarmente. La provincia di Arezzo proprietaria dell'edificio e competente per le scuole superiori ha assicurato che lavori permettendo tutto dovrebbe essere risolto entro novembre. Intanto per le restanti classi del Marconi che ancora non sono state sistemate altrove potrebbe aprirsi l'ipotesi della DAD per riuscire ad effettuare cinque ore. La DAD insomma un termine, una modalità, per molti un brutto ricordo che tanti studenti Chiosa e il Cobas stanno ancora pagando in termini di formazione inadeguata. Parliamo ancora di scuola ma questa volta del metodo rondine che questa mattina ha dato appunto il via ad un nuovo anno scolastico proprio a pochi giorni dalla firma con il ministro Valditara di questo importante protocollo. Io penso che un mio coetaneo e una mia coetanea dovrebbe valutare e poi scegliere l'opportunità del quarto anno a rondine perché credo sia effettivamente l'esperienza giusta che ti permette di vedere il mondo da un'altra prospettiva, anzi da altre prospettive, non solo una ma diverse attraverso le varie sfaccettature che il percorso offre si riesce anche a interpretare, a conoscere il mondo in maniera più profonda e ad essere più consapevoli dei passi che poi andiamo a fare giorno dopo giorno nella nostra vita in questi, quindi per essere protagonisti della nostra vita. Centinaia di studenti alla Cittadella della Pace di Rondine per l'inaugurazione di tutti i percorsi formativi. 37 le classi in partenza quest'anno in 25 scuole proprio in questi giorni riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione tramite il protocollo di intesa firmato dal Ministro Valditara. L'impatto del metodo Rondine sulla scuola è un impatto che interviene direttamente sulla metodologia didattica e quindi sul modello relazione docente-allievo ma anche fra docente e docente, fra allievo e allievo, quindi sia a livello di pari che a livello verticale e quindi dovrebbe sviluppare tutte quelle competenze trasversali che poi sono fondamentali per lo sviluppo successivo di quello che è il cittadino che la scuola forma ma anche quello che è il progetto di vita. Accanto a loro i 29 studenti del quarto anno di Rondine che da poco hanno iniziato un anno di scuola nella cittadella della pace oltre alla nuova generazione World House, 14 giovani appartenenti a popoli in conflitto che iniziano il loro percorso di due anni a Rondine. Per essere cittadini che sanno stare in piedi nell'epoca globale bisogna imparare a non aver paura dei conflitti ma trasformarli in modo creativo facendogli diventare sviluppo umano e culturale. Lega Ambiente chiama per promuovere la cultura ambientale con l'iniziativa Puliamo il Mondo e l'amministrazione comunale di Capolona risponde e scende in campo proprio con i bambini. Un gioco di squadra che non è stato un gioco ma è stato proprio educare i futuri uomini e donne del domani verso un futuro sostenibile in un rispettoso rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente. Anche quest'anno sono state coinvolte le scuole nell'iniziativa di Puliamo il Mondo per sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di collaborare e l'impegno individuale. Ogni rifiuto ha trovato il suo posto nei sacchi della raccolta differenziata e Castelluccio e tutta la comunità di Capolona possono indubbiamente essere orgogliosi dei loro piccoli studenti. Scade oggi una nuova normativa che è stata decisa proprio dalla regione toscana ovvero l'accatastamento di camini e stufe a tutti gli effetti impianti a biomasse. Ma nonostante la scadenza appunto del 30 di settembre la regione ha deciso di ampliare questo termine ma di dare eventualmente anche in caso diciamo di controllo altro tempo agli inadempienti. Sentiamo. Il termine ultimo era fissato allo scorso 30 settembre ed interessa stufe, camini e caldaie che utilizzano legna, pelle e tecippato. Si tratta della procedura di accatastamento semplificato degli impianti a biomassa previsto dalla delibera regionale dello scorso 30 marzo, una sorta di mappatura sul territorio regionale. Si tratta praticamente di un'azione ricognitoria, chi ha un caminetto, una stufa deve dichiararla ma siccome in molti mi hanno detto anche che questa cosa non era stata probabilmente adeguatamente pubblicizzata, comunque molte persone non lo sapevano, vorrei tranquillizzare perché è vero che c'è questa scadenza ma è anche vero che chi dovesse avere un controllo ha la possibilità di mettersi in regola entro 30 giorni dal punto di vista della dichiarazione senza avere sanzioni. Chi ancora non si fosse registrato sull'apposito portale della regione potrà mettersi in regola gratuitamente accedendo al sito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Il procedimento è informatizzato, rapido ed intuitivo, non prevede alcuna spesa e non necessita di interventi di tecnici specializzati. Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione. Si chiama Ebrei in camicia rossa dal Risorgimento alla Resistenza, la mostra organizzata dall'amministrazione provinciale e dalla sezione aretina dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini. Una mostra partita circa tre anni fa dal Museo Civico del Risorgimento di Bologna, il 5 ottobre verrà appunto inaugurata ad Arezzo. Unica tappa in Toscana è stata curata dall'ufficio storico di Roma proprio dell'Associazione. Per quanto riguarda il nostro territorio spiccherà su tutte la figura di Eugenio Calò, comandante di origine ebraica della ventitresima brigata Garibaldi Pio Borri di Arezzo. Assieme al comandante Ricapito e Luigi Valentini saranno presenti all'inaugurazione, oltre alle autorità cittadine e alle varie associazioni combattentistiche, anche la comunità ebraica di Firenze. Adesso invece ci spostiamo a Monte San Savino per una iniziativa contro il cyberbullismo. Il messaggio che vogliamo lanciare e che risulta essere un'anteprima di quella specifica sulla lotta contro la violenza alle donne è proprio quella, di parlare della non violenza in tutti i settori. E vogliamo fare in modo che Monte San Savino dimostri attraverso il suo impegno, attraverso le sue attività, di diventare e di mettere in risalto il fatto di essere una città contro la violenza. Diffondere il linguaggio della non violenza, questo l'obiettivo primario della prima edizione dell'Harmony World Stop Violence organizzato dal comune di Monte San Savino con il coordinamento dell'associazione premio internazionale semplicemente donna. Vogliamo comunicare un lato importantissimo, la non violenza. Una non violenza che dallo sport si deve trasmettere a tutti gli altri settori della nostra vita e della nostra esistenza. E questo è un segnale forte che vogliamo dare ai ragazzi. Coronamento dell'iniziativa, la cerimonia di premiazione al Teatro Verde di Monte San Savino. Sul palcoscenico sei grandi personaggi del mondo dello sport, della cultura, del sociale e del giornalismo che hanno raccontato il proprio vissuto parlando a cuore aperto al pubblico presente e testimoniando il proprio impegno quotidiano nel contrasto ad ogni forma di violenza. Delle storie da raccontare e che sono storie comunque anche di rinascita, quindi a maggior ragione proprio a dimostrazione e in lotta alla violenza. Tra i temi toccati anche quello del cyberbullismo. È un problema che esiste, noi lo vediamo tanto anche nelle scuole e bisogna sicuramente sensibilizzare i ragazzi a stare attenti e a capire quello che provano gli altri, anche quello che soffrono gli altri. Focus anche sull'educazione delle future generazioni. Secondo me nella vita di ogni ragazzo giovane ci dovrebbe essere tanto sport. La scuola forse dovrebbe fare qualcosa di più perché a scuola si fa pochissimo sport. Chiaramente il calcio è secondo me la punta dell'iceberg, nel senso che ha molta attenzione mediatica. I calciatori adesso stanno un po' iniziando a capire che i messaggi che veicolano sono messaggi importanti. Adesso il mondo dei social apre una finestra sul mondo e qualsiasi ragazzino con smartphone può seguire il calciatore che gioca in Arabia, Saudita, piuttosto che gioca negli Stati Uniti. Sembra impossibile, eppure il sole bacia la fiera antiquaria. In questo fine settimana appunto di fine settembre e inizio ottobre sono tanti turisti che stanno affollando il centro di Arezzo. Il servizio. Il sole splende finalmente sulla fiera antiquaria. L'edizione di ottobre che gioca d'anticipo vede la presenza di oltre 200 espositori dislocati lungo il classico percorso, nelle vie del centro storico pronti a regalare ad appassionati e detti ai lavori il piacere della caccia ad oggetti di ogni tipo. L'appuntamento con l'antiquaria è arricchito in questa occasione anche da un evento espositivo. Alla Galleria Rosiboa la mostra delle opere di Franco Fedeli, eclettico pittore e scultore toscano, tra cui 15 tavole dedicate proprio alla fiera antiquaria e realizzate nei primi anni 70. Torna infine anche a Arezzo selezione vintage con due nuove location, il Palazzo di Fraternita e il Giardino Pensile della provincia. Sì, ci sono 25-30 espositori tra uno spazio e l'altro che portano le loro collezioni, le loro idee, le loro rielaborazioni di pezzi vintage, quindi molto interessante. Sì, la qualità è alta perché queste persone sono appunto dei collezionisti che fanno ricerca, che vanno a cercare le cose nelle case o dalle persone che hanno chiuso delle attività o che hanno delle cose della nonna, di famiglia, di cui non vogliono disfarsi, insomma, quindi è interessante. Terzo posto per lo chef Shadi Asbun ai mondiali di Cuscus. Il cuoco aretino è stato tra i protagonisti della 26esima edizione del Cuscus Fest, che nella città siciliana di San Vito Lo Capo ha rinnovato una competizione internazionale dedicata proprio alla valorizzazione di questa pietanza, attraverso reinterpretazioni tra tradizione e modernità. Chef Shadi ha gareggiato in rappresentanza della Palestina, terra di origine di suo padre, ed è riuscito a convincere la giuria della qualità della sua cucina con un piatto che ha appunto meritato una prestigiosa medaglia di bronzo. E allora, in attesa di capire come finirà Arezzo-Pontedera, come sappiamo, il calcio di inizio è previsto per le 20.45 al comunale di Arezzo, come abbiamo spesso ricordato, una partita davvero dal sapore Amarcord. Domani invece saranno impegnate anche le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile contro il Chievo Women. E allora sentiamo il mister ai nostri microfoni. Aspetto una partita complicata, difficile, parliamo di un mister che ha fatto una carriera importante, delle giocatrici, ho visto la Rosa, hanno fatto una carriera importante anche, è anche un club, una società che ha fatto una stagione importante anche l'anno scorso. Quindi è una cosa in più, è che è una bestia blessata, lo diciamo. Quindi è una squadra che ha fatto una sconfitta, quindi vengono con un'altra mentalità. Noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere preparati per una partita intensa, è quello che abbiamo fatto tutta questa settimana. Io ho detto del primo giorno che siamo qui con le ragazze, tutto il staff e abbiamo tutti la stessa mentalità che ogni partita è il nostro lavoro. Quindi se ci sono 30 partite da giocare, 29, 28, 27, sempre ogni partita è lo stesso obiettivo. Quindi lavoro serio durante la settimana, preparazione e partita intensa sempre. Se abbiamo cinque vittorie o se abbiamo due vittorie o cinque sconfitte, due sconfitte, quindi i risultati non ci fanno la differenza nel lavoro. Il lavoro è il lavoro e domenica aspettiamo questa partita per continuare il nostro lavoro buono. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortesia e attenzione e arrivederci.